Saluto a tutti, mi chiamo Stefano e sono nato in Corsica in due a su cresciuto. Mi faccio un piacettamento di poter trasmetterlo oggi a me lingua, non da internet, a tutti qui di chi vuole ne amparare. A Corsica è un'isola di un mariterraneo vicino all'Italia e alla Sardegna. Più famosa per i paesaggi di mari e di montagna, ci sono nati ogni pochi personaggi famosi come Napoleone, Pasquale Paoli e Angelo Marianni, che inventò una vivenda fatta di gocca e di noci di golla, che più tardi sarà conosciuta in ogni luogo. Ci sono tanti ragioni per decidere ad imparare un'altra lingua e dunque ci sono tanti ragioni per imparare un'altra lingua. La lingua gorsa è una lingua antica, assai vicina al latino. La storia della Corsica è sempre stata connessa alla storia di un mondo. Il corso non è, come molti pensano, un dialecto del francese o dell'italiano. C'è in realtà una lingua molto più ancienne, che sembra molto a altre lingue della famiglia come l'espagnol, l'italiano, il portugais, il romano, par esempio, o ancora delle lingue più esplendate come l'anglai. Il mot street, par esempio, è più proche del corso stritta che del francese rù. Quando io ero ero, ho apprisi diverse lingue diverse. C'è una lingua solo in ascoltare e parlare, altre in mani più classica, più académica. Ma non ho mai appriso così vite che quando all'allero a un ritmo e in prezziato a un po' di piacere. C'è come questo che ho appriso l'espagnol, par esempio. Più tardi, ho vinto a Londra durante molte anni. E' stato in france che ho cominciato a vivere la mia passionazione per le lingue. Ho appriso con i figli, i adolescenti e adulti di tutti i anni, venendo da tutti i continenti. I like to use the natural approach in my lessons, and I try my best to adapt to the students' needs. In fact, the most successful students are the ones who bring their own favorite material to our lessons, which we can then study together. Although I do have plenty of suggestions to try and match your interests, so you can have more fun learning. The trial lesson is very important for me. This is the moment where we can talk about your goals, strengths, weaknesses, and previous learning experience. This first lesson will help me determine a structured program for you, so you can improve your language skills and keep your motivation at the same time. We can have many different kinds of lessons. For example, we could use your target language during the whole lesson, but we could also use your native language, if needed, to speed up your learning. E che hablo tambien espanol, parlo italiano, e a torgen im nodo gavali pa russchi. Learning is a journey, and learning a new language can be a tremendous adventure, as long as you're not left alone on the wrong path. When I was a student, I tried learning in many different situations, and I failed quite a lot. So I know how frustrating it can be to feel stuck sometimes. Not to know exactly where to look, or what to do to get to the next step. Fortunately, there's always a solution if you really want to learn. So if you're interested in investing in your own success, just send me a message, and we'll be in touch soon. EFFECESSOR EFFECESSOR ENERGELY Grazie a tutti.